no cana ida cazzo dura la vita comunque su queste cose qua sono abbastanza d'accordo sulla sua idea è come se praticamente lui dice come in riassunto è come se questa non fosse un prodotto diciamo fatto per piacere al pubblico ma è semplicemente una un'idea di un artista diciamo di artistica una cosa che piace a nikita e quindi per fortuna è piaciuta molto anche al pubblico però a un certo punto quando è diventata molto grossa magari ci sono state alcune cose che non piacevano ma lui se ne è fottuto perché non l'ha fatto per il pubblico l'ha fatto solo per portare avanti la sua idea no è come dire io faccio la pizza migliore del mondo adesso ho deciso di iniziare a mettere l'ananas sulla pizza ha detto però la gente non l'ha recepito bene lui fa vabbè non mi interessa niente questa è la mia idea se adesso vi inizierà a piacere così punto chiaro ieri sarani sono collegato un attimo aveva fatto un giro per cercare di vedere sto cazzo di rat nest ma non ho trovato un cazzo cioè o meglio ho trovato una cosa che secondo me aveva la faccia molto di un rat nest però non ho trovato il gather di intelligenza se voi ci ripassiamo vediamo allora non ho trovato la prima vera stanza con del lup di questo gioco ah sì 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 però poi c'è dentro tre scatole ho trovato un m4 un'armatura un rig figo un m4 M4 Unero quindi andiamo secondo me guarda un attimo 202 158 potrebbe essere una delle farm quella allora le farm le ho trovate tutte e sono 202 159 nell'angolino a destra e l'altra l'altra era adesso non sono dimenticata dove era l'altra l'altra era l'altra era tipo in zona 202 100 no 200 aspetta quella sopra la warehouse 203 164 tipo da quella strada lì la vedevi proviamo andare prima con la sud no aspetta aspetta era 201 165 nell'angolina sinistra a quella sopra warehouse quindi e poi l'altra era quella lì sotto dove ti avevo detto anch'io che secondo me era quindi proviamo andare in quelle cosa facciamo prima quella sotto che è più sperduta va bene andiamo in guarda sotto andiamo alz chiamo per lz3 alfa 3 si e poi risaliamo tutta la mappa va bene allora aspetta che mi metto le cuffie a oppure arriva un elicottero un altro le dote non c'è messa neanche va arrivando al nostro il nostro va arrivando ah beh ancora in aria però si si sta arrivando si si ma io sono pronto devo solo mettermi le cuffie il personaggio è già posto ma tu sei questo? no no io sono questo qua ah questo visto che ho trovato questo a k guarda mi sto sentendo perchè mi sto mettendo le cuffie questo è il nostro elicottero no? stessa cazza petta eccola ah è il mio elicottero non è bene ecco siete saliti contemporaneamente oh ci toponano spera un secondo spera un altro spera un altro Grazie a tutti. 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 Un'elicottero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' di rumore, voglio dire, fa veramente cagare. E' un po' di rumore. E' un po' di rumore. E' un po' di rumore, perché non è possibile che a volte lo senti, a volte non lo senti stando fermo, salta all'improvviso, oppure fai un rumore vicino a qualcuno, non lo senti, poi mi senti una 60 metri. E' un po' di rumore, non ha senso, non ha senso. E' un po' di rumore. E' un po' di rumore, mi sta... Sto camminando perché sono scopo. Sto sparando proprio dove sei tu? Sono io che sto sparando. Ah! C'è che non ho ancora ciabattare. Non ho capito il senso dello spawn di ciabattare. Non ho capito il senso dello spawn di ciabattare. Come... conformi che da un formicaio... Hanno del cibo? Non ho mangiato! Non ho tanto questo... Questo ce l'ha. Ti lascio anche un sip d'acqua. Grazie. No, dai, no, è nel... Oh, colpo in testa, qualcuno l'ho ammazzato. Oh, yeah. Ma proprio morto, morto, eh? Cristo. Curami i cadavere. Sono in base. Sì, sì, sono qua io, ma non capisco dove è arrivato. Ne è arrivato un altro di colpo, ma non l'ho visto. Sinistra. Ah, eccoli. Uno è andato, ce n'è un altro. Non lo so. E spara proprio qui, Cristo. Faccio il giro della casa. Intanto sono Ciamatai, quindi non te fregano. non lo so. Ma porco Dio, ma veramente ci stafolano ancora. metto una turva, non c'è sfoglia. Aspetta. Un altro corriere, arrivo subito. Sì. 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 No, ti ha bloccato il service, però. Ah, ok. Io sono tu l'elicopero fermo a mezz'aria. Eh. Sì, io non riesco neanche di correre. Ma funziona. Sto neanche ricaricando la stablia. È proprio bloccato. Ok, mi ha buttato fuori. però che abbia salvato i progressi almeno scoccia che avevo trovato un'arma figlia dimmi quando ci sei che faccio un bichetto io in teoria sono ready però mi sa che ti dice che non si può vero se io ti vedo ancora nella schermata bloccata di prima squadra non fu lì e allora devi rifare il gruppo devi che pallo ha perso tutto il kit eh si dio bestia devo cambiare sto cazzo di PS che pallo ha perso Grazie. 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 Mi ha tenuto la missione ma mi ha resettato i colpi, non ho sprecato neanche uno. Bene. Un ciabattari eh di fronte? Si, si, ho sentito. Vado su qua a fare quello del camion. Un ciabattari morto. C'è un altro. Morto secondo. Ok, cazzo è andato. Ah, è qui! Eccola, task completed. Qui non serve neanche lo slot aggiuntivo nel rig per far lo scambio dei caricatori. Uno slot aggiuntivo nel rig per far lo scambio di caricatori. Quando ricarichi non ti serve lo slot vuoto, cioè non te lo butta per terra. Eh, ma c'è quella dell'hide out. Allora, andiamo un attimo con la casa là, che volevano curioso di rivederla. Sì. Qua cerchiamo lì d'auto. Quella del loot eh? Sì. Ho preso di vedere se era una roba casuale o se era... ...dolce batteria non è. ... 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 qui questa ce l'ha proprio la faccia della head out però non c'è un po forse un po troppo a est poi ce n'è uno un andato allora vediamoci dal mezzo mamma mia one shot a questa distanza senza merino andiamoci a una torre dell'acqua sempre volevo guardare un po ste casette qua è lì c'è una parte a nord della città per cui è lì di sicuro poi qualcuno mi sparo ma non lo vedo ecco no ecco ho ammazzato il tizio non lo vedevo facendo un altro ho fatto fuori un altro mi devo curare si ho ciò che a tua sinistra c'è qualcuno la 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 è fatta ancora un secondo light bruise anal bruise sicura da solo voglio vedere se il band ci fa qualcosa ma dubito oh c'è un altro ma dove lo sai che è lì non lo so più ho fatto forse ho un altro oh ce n'è uno qui un altro un altro sento un altro ancora ho fatto un altro fatto sento che spari così no veniva dalla mia sinistra quindi no e qua si sente la direzionalità almeno porca troia muove il modafuoco qui c'è qualcosa ho trovato lo smartphone allora era qua di sopra sì di sopra eccolo allora l'altra è a sud io tornerai in base a consegnare questo prima che andiamo a sud crash al server no? cosa dici? anche? ah fammi vedere un attimo ok avrei un'altra questa che dice di andare un repair shop che però è a sud perché lo facciamo dopo buone oh c'è uno qua sotto ah è uno dei nostri che sta lutando a allora ma sì 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 vogliamo chiamare assente che ci sono io che mi do ci sono io che mi do ci sono io che mi do ci sono io alfa 2 sì ci sono quelle scatole le gomme le gomme sei riuscito a chiamarlo? sì sì non mi dà la LZ è alfa 2 comunque c'è qualcuno là? c'è qualcuno là? c'è qualcuno lì al centro chi è? infatti non mi sembra vestito male per essere un... si sta sparando? non ho capito sì sento i colpi che arrivano aia 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 sì sì aia bene mi ha preso la gamba aspetta light wound tre colpi mi ha preso il problema è che io non ho un bivino come cazzo lo prendiamo fin là? adesso bisogna sprecare un po' di polpi è che finchè non abbiamo ganni al 2 secondo me non riusciamo a... dov'è? non lo vedo più non lo vedo più facciamo il giro un po' più largo per quelle piante lì per cui... non lo vedo più ma c'è il prano non lo vedo più ma c'è il prano lo vedo lo vedo lo vedo no quello al centro sono io anche il cazzo pari ah e non ti ha sparato mentre arrivavi fin lì sì c'è nessuno eh si è spostato lo saprai io sono sono qua nella fila di piante mi sei sicuro di averlo chiamato l'elicottero? sì sì l'ho chiamato un minuto e quaranta tra trenta secondi parte ok facciamo size un minuto un minuto questo sai che non ho mai strisciato in questo gioco vediamo è un botto di volta che ci metteresti nella realtà strisciare in quella fanghiglia schifosa guarda già che mi dicono prima di fare il viaggio nella l'only planet che ci sono tutte le zanzare arriva ieri sono morto in vetito dall'elicottero è tutta vicini troppo stiamo facciando il tuo fucile in realtà io ti sto mirando la tempia eppure è nell'occhio praticamente nel tuo occhio aspetta a tirare un po' più in su riesci a vedere la cassa? in realtà vedo attraverso il tuo corpo anche vedi che c'è la foresta dietro si devi avere un buco nella spalla beh dovresti averlo lo stesso perché hai comunque il calcio infilzato dentro la clavicola dobbiamo portare ganni al 2 dobbiamo avere accesso a quel mirino che mirino? è il mirino telescopico in realtà non è necessario ma noi continuiamo ad andare qui per consegnare le missioni no fa scena però devi seguire il gioco questo qui è giusto ah ok handover si poi complete lei me ne dà un'altra pure non mi fa fare handover ancora bug ma no devi avercelo addosso non può essere nello stagio ah ok infatti io non ho una che ha lasciato gioco great news non mi fa fare le cose ok vi hai un'altra opportunità non mi fa fare le cose nello stagione non mi fa fare le cose un'altra cosa non mi fa fare le cose non mi fa fare le cose Ok E intanto Gunny che quello che ci interessa di più non ci dà ancora quest No invece dobbiamo andare da qualcuno a prendere una valigetta secondo me Chi è che darà una valigetta qui Allora Collette briefcase Comandante è questa Comandante è questa E questa qua è la valigetta Briefcase Però non c'ho spazio Mangia Vabbè mica almeno nella head out poteva farlo veloce Vabbè mangio anche io Che appena mangi voglia dire l'idratazione va giù di brutto alcuno Le mangio intanto salate in sto posto Va bene Altro giro, altra corsa Adesso dobbiamo andare a sud Per cui andrei alle Z2 E dobbiamo trovare l'altra head out alle Z2 Ma credo di sapere dove è Perché l'ho visto ieri Ma per andare a sud andiamo a Alpha 3 Non 2 Alpha 3? È in zona Sound Hall credo Ah Allora al massimo uno Scusa Alpha 1 volevo dire Ah L'ho già chiamato? Adesso Ok Ah Ho sbloccato qualcosa Ho sbloccato altre magliette Ah vero Altre guanti Questi qua carini E i trousers Questi Bellini questi Ma li metto Vediamo come sono io Fai vedere Fai a bastardo Nella rotula proprio Mi cammini più a vita Vabbè ma Stelicottero Secondo me non sta arrivando Sì sì Un minuto e 49 Vabbè Aspettare che gli altri birds Non siano più Aspettato Allora Giusto Sennò ci disidratiamo Ti immagini Se ha giustato questa meccanica Nè Sennò ci disidratiamo Sennò ci disidratiamo Sennò ci disidratiamo Sennò ci disidratiamo Questa è essere C'è qualcuno C'è qualcuno che è stato segato Eh, cazzo i suoi, se si mette sotto l'elicottero Ma no, poverino, lasciaglielo, è uno dei nostri Ma sì, qua non ci sono nemici delle altre fazioni Non si lutano mai i corpi qua Se non sei cattivo Bastardo Cicciula il cibo Me ne avrai fratto tutto Ma tu sei un bastardo Uh, ciabattaro Faccio un giro di qui però Ok, fatto fuori Servono un paio di caricatori della K Sento quello lì all'angolo Ce ne sono due o tre Uno l'ho seccato Gli altri... Ma perché secondo me non dobbiamo andare lì, quindi... E lo so, non bisogna... Spercarbolezioni Ah, prova a vedere se quello che ho ammazzato io C'è la K Non ho visto perché non me neanche sparato Sì Non ci abattarsi No vabbè A me potremmo guardare... Su, su, vai Devi andare nella via Nella via? Allora, dobbiamo dare il briefcase che è al meccanico Il meccanico se non ricordo male è in questa via qua Però vedo anche... Aspetta eh Qui dove sei tu proprio L'Hide Out è qui secondo me Dove? E dove non lo so Come qui in questa zona No, dove... Ah, sì sì, anche secondo me Ma non saprei... Dovremmo vedere tutte ste case Allora, qui c'è la faccia di Hide Out No, questa non è qui Ma c'è scritto eh, comunque Andiamo alla casa È questa casa qua, guarda Io provo questo È questa qui Ho provato? Ehm, no ancora Allora Allora I'm searching Allora Allora Allora, non sono trovato Dove cazzo è? Qui di sicuro non lo ha fatto Eccolo, ho provato Ui Arrivato Ah, forse per il simbolo sul muro L'hai trovato? Sì sì, sono quello Ancola qua Trovato Trovato Poi colleggo Befebri Befebri Deve fare per shop Allora Dove sarà? Eh, adesso trovo di capare Devo fare un paio di spostamenti Allora Allora Hai trovato? Ho preso? Sì Ok Allora Allora Vediamo un po' Mappa Allora Dovrebbe essere poco più in sopra Nella via Proprio quella con l'asfalto Che abbiamo sopra di noi Se non mi ricordo male Che cazzo sta casa che sta nella foresta? Oh, c'è Mattaro Dove? Dove? Eh, lungo la strada dove stavi guardando tu Eh, ora è verso ovest Dove c'è la casa rossa? Vediamo se è morto o non vedo Non è morto, quindi si è riparato di là a qualche parte Se è entrato dentro È andato C'è due caricatori da K pieni se vuoi No, no, li ho presi, li ho presi Ecco Grazie Ehm Allora Dove decidi lasciarla? La roba The carrier shop and leave it under the trucks cabin Trucks cabin Trucks cabin Trucks cabin Ma è quello repershop, dove sei tu? No Questo è il negozio di immobili Io l'ho visto ieri Qua è scritto, guarda, tutto Truck, questo è un truck Ma... No Questo è il... no No No, questo è un garage normale Ah, questo Questo è un repershop Ok Grazie Viste che non è questo? Non lo so Allora, le gomme c'è un po' di cuore, c'è i classici attrezzi da... Un po' di cuore, potrebbe essere, però, un po' di cuore. C'è un truck davanti, però... Allora... No, mi sa che non è questo. Oh, 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 ciabattaro! Di fronte al municipio. No, è ancora... Ah, no! È quello finto. È il manichino. Questo anche sembra un carer per shop, ma... E c'è un truck, so, cabine. Fato fuori un ciabattaro. Sì. 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 Trovato. Grande. Ah, eccolo qua, sì. Dentro la cabina, quindi? Sotto. Ah. Ah, no, non ho capito. Il tracks. Vai al track. Ah. Ok. Ci farò andare alle Z1. Oh, 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 arriva qualcuno. Mi sto mangiando io. Ah, ma è il nostro amico. Sì, ma mi sta puntando la testa. Beh, vabbè. Non hai detto. Beh, cominciamo... a chiamare... Ok. Hai chiamato l'elicottero per dove? Alfa 1? D'Alfa 1, sì. Va bene. Ma che spesso qua in cima c'è qualcuno, no? No, da casa qua. Ah. Ah, ecco. T'hanno visto. A destra, sulla destra. Ma io ho... I colpi in faccia si prende questo. Ah, eh, minchia. Morto. Ah, non l'abbiamo cercato a ride out. Come non l'abbiamo cercato a ride out? Ah, no, l'abbiamo cercato, è vero. Eh, la fonda l'abbiamo presa. Sì, 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 è vero. Sì, sì, è vero. Cioè, vedi, è così facile fare l'audio, ho sentito benissimo. Con i passi che diventavano sempre più forti, cioè, boh, non capisco. Sì, non ci sono molte... Molte... Secondo me lo fa il... Cioè, l'hanno strutturato con quelli di Tarkov, evidentemente, in una maniera dove... Secondo me il numero crea problemi. Tipo, per ogni suono tu devi impostarle in una certa maniera, eh, avendo milioni di suoni e si capisci di un cazzo. Cioè, qui tu puoi passare su un cadavere, sul... Sul metallo, sul legno, cambia poco, eh. Cioè, hanno fatto distinzione giusto tra il legno, quello proprio che fa toc toc toc, la palude e la strada. Poi, se tu corri sull'asfalto o sull'erbetto a fianco al lato della strada, non fa differenza, no? Non lo so, non so se è quello. È il nostro? Sì, sì. Sì, sì. Io adesso, prima di continuare, mangio qualcosa. Non so neanche dove mettermelo quello zaino, lì. Ah, invece l'ha preso. Ah, no. L'ho messo qui. Invece, non c'è stato. Immaginavo. Un percentuale. Però ci dà una quest anche Ganni, adesso. Oh, abbiamo Artisan, abbiamo un altro trader. Carina. Oh, finalmente quella che dà i pezzi per la K. Sì, non è male. No, molto meglio ne quattro. Non guarda, c'è il mio mirino. Ah, non. Sì! Sì! Grazie a tutti. 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 Oh, comunque se ne fosse uno con un'armatura... Quindi ci sono allora KM, KM, MSN... Poi c'è il Mosin e una pistola in più che vende Artisan. Ah, c'è anche la KM e MSN? C'è? Quella carina, è un bello montabile. Sì, però la KM te lo dà già completo. La KM e MSN ti dà solo la... come si chiama la parte principale, la parte centrale per ricordarti anche il resto. Con tutti gli handgrip... Con tutti gli handgrip... con gli handgrip... con gli handgrip... con gli handgrip... ...c**so... No, va bene, per esempio carinacin tensione. Ho bisogno dei tools Che tools non lo dice? No, non so, non so, non so, non so, non so. oi ma cazzo non non ma c'è non non ravin Dispatch, moving to base camp. Rave reporting, I'm on my way. ETA, 30 seconds. Rave reporting, I'm ready to pick you up. Rave reporting, I'm ready to go. 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 un catarco se ti fai una cabina vuol dire 102 101 105 msn soprattutto ma lo sai che l'assault scope noi ce l'abbiamo sempre avuta ma non l'abbiamo mai usato un 4x32 già scritto magnification 4x quello fatto tipo forma di cono una specie si 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 rosa che l'ho già montato su un paio di me quattro no cazzo uno, due, tre, via ahhh non 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 ma Grazie. 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 Non capisco perché si può comprarti le armi fighe e va in giro con una cappa di merda e con un mirino che neanche esiste. Continua a perdere tutto il resto del loot. Quindi c'è pk in alfa come cazzo come va nulla l'elicottero non so se si può clicca eh non so eh non lo fa nulla l'era Ah, non so che non si può Ah, è rapide Ah, è rapide Non ti riesco a ammazzare col coltello questo Se non si gira prima Si è girato No, non so che non si può Ora abbiamo la risposta Cioè quelli ci mettono 17 colpi alla testa per morire Vuoi che con un coltellino Ah, non so che non si può 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 Bene, andiamo a vedere se recuperiamo qualcosa Non so che non si può 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 Ma è spawnato a mezzo metro a sinistra Che due coglioni Noi, lascia. Noi, lascia, 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 lascia. Noi, lascia, lascia, lascia. Allora, questo non sono io, questo non sono io. Noi, lascia. Noi, lascia. Lascia, lascia. Noi, 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 lascia. Noi. Noi, lascia. Noi, lascia. Noi, lascia. Noi, lascia. Noi, lascia. Noi, lascia. Noi. . Noi, lascia. 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 Y lascia. Noi, lascia. Noi, lascia. Y lascia. Y lascia. OK. Lascia. Grazie a tutti 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 2 minuti arrivo Grazie a tutti Ma le zaini tu invece hai visto quanto costano? 1 minuti ma non ho Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non sento più Yep Request Grazie a tutti Grazie a tutti No, non è Grazie a tutti 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 sono gli u.s. 7.62x39 però dovrebbe farmi rimettere ma non me li fa mettere allora stiamo cercando un ristorante all'angolo questo è un ristorante credo c'è una faccia del ristorante un ristorante di merda magari un magazzino no ma mi sapevo che sia in questa zona o qui l'amberge questo è un ristorante no questo è un deposito qui niente questo no vedete cos'è che sto cercando questo è un supermercato questo è un ristorante no 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 che c'è un mato Grazie a tutti. 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 Con il gioco non capisco il fatto che a sinistra e a destra ti puoi spostare solo molto lentamente e quando bevi non puoi camminare praticamente. Oh, ero muto. Sì, sì. Grazie a tutti. Buon ristorante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ti immagina sto fucile. Non so. Te lo dice? Sì. 3,5. Beh, non è un vero che vediamo. Il suo odio. Beh, fino a... diciamo 98 metri, 100 metri dovresti riuscire a sparare in modo efficace in un raggio di 10 cm. un colpo di 10 cm. Un colpo alla testa lo dovresti riuscire a dare. circa 20 km. Un colpo alla testa. Un colpo di 10 cm. Un colpo di 10 cm. Grazie a tutti. Dice un ristorante nella parte nord, che fa angolo? Ma io a parte nord ho visto un cazzo di ristorante. Oramai questa non è più a parte nord. A meno che non sia di là. Dice un ristorante nella parte nord. 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 Dice un ristorante. 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 Non hai ancora sangue? Sì Quando arrivi a metà sei morto, quando arrivi a due litri e mezzo sei morto Non hai ancora sangue, non hai ancora sangue? Non hai ancora sangue, non hai ancora sangue, non hai ancora sangue? Non hai ancora sangue, non hai ancora sangue? Non hai ancora sangue? Non hai ancora sangue? ho capito otto volte vabbè Johnny io sto al ristorante questo può essere un ristorante però Intel finisce che fa angolo questo è il motel questo fango questo è un ristorante angolo, fango è nella parte nord è un ristorante 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 sei rientrato no non ancora adesso magari faccio finire i piatti tant'ora di piantare i piatti con calma poi dopo magari mi collega un po' è un ristorante è un ristorante è un ristorante no puttana iva cazzo dura la vita adesso voglio recuperarla capire la mia cosa eh ciao ble grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.